Si sono conclusi con l'abbattimento del diaframma della Galleria Caltanissette i lavori di scavo dei primi 4 km. Lo scavo realizzato grazie alla talpa TBM Barbara appartiene al secondo lotto dei lavori di ammodernamento e adeguamento della strada statale 640 Grigento Caltanissetta. E' stata così ultimata dopo un anno dall'inizio dei lavori la Galleria Sottostante, la Collina Sant'Elia, lo sviluppo complessivo del tracciato è di 28 km da Grotta Rossa fino all'imbocco dell'autostrada Palermo-Catania. Concluso lo scavo del primo tunnel, la TBM sarà smontata e rimontata per scavare gli altri 4 km, intanto tutto il tracciato, i lavori sono in corso. Le opere principali che ricadono sull'Otto Nisseno sono la realizzazione di 6 svincoli, 5 gallerie artificiali, 4 gallerie naturali, 13 viadotti, la TBM Barbara dal diametro di 15 metri è arrivata dalla Francia a Portempedrocle. Nel settembre 2015 i componenti della Grande Trivella hanno raggiunto via male le coste siciliane e dopo essere stati stoccati in manchina hanno raggiunto il cantiere tramite trasporti eccezionali dopo un monitoraggio di circa due mesi. A fine giugno del 2014 ha iniziato a scavare. L'avanzamento della talpa è avvenuto mediante martinetti idraulici a spinta sincronizzata comandata dall'operatore direttamente nella cabina. La macchina è dotata di 17 gruppi composti ciascuno da tre martinetti idraulici per un totale di 51 e scava e realizza il tunnel attraverso gli anelli di rivestimento.